bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo video io sono xyuder e io sono la bambina oggi ragazzi la puntata è veramente veramente interessante e sugosa perché diglielo 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 perché perché apriamo i bauli costruibili porca gnoffa hai preso il baule costruibile da maestro 1 tu non dire sì che l'hai preso da lega 2 ma che è un cappero nel naso è vero che schifo aspetta toglilo toglilo cioè un cappero che per favore oggi ragazzi siamo qua ad aprire i bauli costruibili e come potete vedere raggiunte le 4663 coppe in questa stagione per quanto mi riguarda ho fatto anche il record personale se non piangevo se non riuscivo a farlo ho preso il baule di lega 3 sentite lo andiamo ad aprire dai subito subito baulozzo costruibile potete ritrovare miliardi di soldi non mi interessa io voglio sì voglio la leggendaria voglio l'arcere magico non ce l'ho non ce l'ho allora 3800 di arceri magici ah di leggendarie 3894 di gold 5 skip o prendo il caballeros comunque prendo 80 caballeri che so che potrebbero ritornare di prepotenza nel deck la prima è andata seconda skip 23 valkyrie o 23 rocket che schifo prendo il valchirione comunque prendo rocket prendo il rocket perché rocket non si sa ma lo prendono dai 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 dopo vabbè ma cos'è no mi prendo la macchina volante ma scusami la macchina volante c'ha più senso con lo rider la torre di giallo la macchina volante la 77 macchine volanti di prepotenza non sta andando bene ragazzi non mi dà neanche le leggendarie non me le dà c'è ma dai nelle epiche ho capito c'è la leggendaria ma non ce ne ho neanche una carta che mi piace cosa prendo per lo stronzo gigante così certo che c'è la scelta leggendaria a questo punto non so non ho leggendaria che mi interessino spero nel mago di ghiaccio così il miner si ma non l'ho chiesto l'ho chiesto ma non lo prendo l'ho chiesto ma non lo prendo hai chiesto il mago di ghiaccio tu con il miner è vero ho chiesto il mago di ghiaccio ragazzi ma è da maggio 2016 che giorno è oggi 5 marzo 2018 sì perché non ho mai trovato un altro miner ragazzi con minatore potenziabile a livello 2 non dico che lo userò perché te sei un culo grande come una capanna esatto allora ragazzi direi che prima di spostarci ovviamente nel profiletto dell'acqua c'è tutto da fare facciamo una partitina apriamo di qua e si dai le missioni i barili basta darmi i barili d'ossa oh quasi il rischio di apertura del magichello esagerare sentite io ah no non posso andare a upare il miner vai vai una bella partitina ragazzi e poi ci spostiamo dai 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 il miner il miner grande grande siamo contro l'uffi dei elisium 4.000 trofei sì perché siamo tutti resettati dall'inizio uno split vai commentala tu commentamela commentamela easy proprio easy easy lui ancora non sta giocando ha messo lo scheletronzo e tu vai di pipi e di all right per forza per mettiamo che il cannone e si è molto bene molto bene non ho più la voce attenzione vediamo se riusciamo dai parla tu cannone è ovvio che me l'abbia fatto 2.203 2.203 la sua torre in alto a sinistra ragazzi inviolate ancora le mie dai vai un po' a difesa sì sì assolutamente super super pecca ragazzi super pecca che si può partire con lo grinder a destra molto interessante la gang vai con lo grinder a destra vai 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 bene così bene così ragazzi lui con il mago zap molto bravo molto bravo molto bravo a difendersi però non riesco quello l'ho visto quello l'ho visto ma dobbiamo più preoccuparci dello scheletro giant più che del fantasma fantasma che si gira aia che giocata sbagliata eh sì aiaiai davvero aiaiai davvero attenzione bene il cannonao che va a fermare lo grinder al 9 però purtroppo non riusciamo fa il rutino non è che devo fare il rutino no che giocata brutta vedi che non si impegna non è che non mi impegno dai 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 fallo fuori è brutta la situa è brutta eh sì mi ha fregato mi ha fregato bene questo mi ha fregato benissimo attenzione no riesce ad entrare con lo scheletro giant riesce ad entrare a piazzare la bomba alla base della mia torre eh sì e fa malissimo fa malissimo va bene aspettiamo l'ingresso lui dovrebbe andare dall'altra parte invece va di qua eh lo so l'ho visto anche il fantasma l'ho visto eh sì mi va a fare la torre mi va a fare la torre ma io a 38 secondi non dovrei essere così preoccupato andiamo a togliere la princess innanzitutto bene che salviamo inutili il salvataggio di questi pisciatelli andiamo a spingere anche con lo grinder tutta la vita forza anche con la zappa attenzione no non ce la faccio perdo perdo è persa è persa è persa a meno che non ciclo lo grinder a meno che non ciclo lo grinder lui va con lo grinder non mi preoccupa la cosa in realtà non mi preoccupa bene la fireball bene la fireball oddio 5 4 3 2 cosa andiamo a pareggiarla all'ultimo secondo attenzione 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 il pareggio on the last sec ragazzi ok qua farei così ancora un attimo di pazienza ancora un attimo di pazienza lasciamo esplodere via 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 bene così bene così bene così vai 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 lo grinder sgucia sotto super attacco andiamo a spostare il suo grinder no canone sceso in ritardissimo in ritardissimo mamma mia mamma mia che grande ritardo bene gli arcierelli obbligatori arcierelli obbligatori attenzione non è finita non è finita mettiamo un pecca eventualmente per il suo grinder dai 10 secondi la provo c'ha la gelo vince lui cioè pareggio pareggio 4 3 2 peccato peccato pareggio era assolutamente vincibile questa partita e invece siamo andati a pareggiarla il tempo è quello beh ragazzi tempo è tirano direi ragazzi che vale la pena andare sul profilino della PAMI ed eccoci qua ragazzi sul profilino sul mio profilino ragazzi prego tutto tuo tutto tuo apriamo il mio sei andato in record 4338 mamma mia vai 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 apro apro dunque abbiamo 358 di gold non male non male con 4 schiffini dai dai oh che bello 60 60 cosa sono quali troppelli i barbari e gli scheletrini ok cosa prendiamo adesso prendo gli scheletrini che mi piacciono poi mi prende gli scheletrini attenzione secondo schiffo ma che bello pessimo 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 però prendiamo questo giusto giusto la fornace e c'è la leggendaria anche nel tuo grande grande doppia leggendaria cosa prendo io andrei con il vortex tanto il gole non lo userai mai che leggendaria vorresti la stronza notturna dai 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 mamma cagher oh 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 tutti e due non oh no uno ce l'ho questo si può potenzare il ghost ce l'hai ma il boscaiolo non ce l'hai il boscaiolo mi manca cosa prendi boscaiolo congelato boscaiolo congelato e prendi però che non è che dura 20 minuti il video giusta giusta scelta giusta scelta e allora vai a fare una bella 2v2 per far vedere a questi ragazzi come sai gestire al meglio il deck vai 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 aspetta fai partire un baule fai il cesto opening già che ci sei ah si dai via così col cesto opening via 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 uh molto bene molto bene vai con l'argentino 93 di gold tre moschettieri niente di interessante niente di bello avanti ancora avanti ancora 96 di gold uh ebbene ora vediamo qua cosa ci rende dai dai 235 di gold 6 scariche 11 barbari scelti i 22 barbari miei 4 campanelli barbari e basta ne è che posso 17 carte vai 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 ma basta dobbiamo fare il video già che ci sono li stai portando al 13 vergogna come fa averli così alti ma com'è possibile ma che schifo vederci a 2v2 dalla pamina ragazzi e poi ci salutiamo dai vediamo un pochettino la pamela se ce la fa ragazzi attenzione Davide il mio compagno di squadra bene come sono in ritardo tanto loro hanno già aperto ma abbiamo counterato eccezionalmente con un valchirione la pamina ancora non si lascia prendere la mano e non gioca nulla strega da dietro sulla sinistra vediamo l'apertura con il caballeros e la coppia di arceri viene poi sonata la strega in questo momento pamina ancora decide di non giocare nulla e quindi darà la possibilità all'avversario di andare ad attaccare no decide invece di andare davanti col giant riesce a salvare la sua strega attenzione la mongolfiera la firewall ti serve subito tiramela no non tirarla non tirarla non tirarla non tirarla fai quello che vuoi fai quello che vuoi ma era sprecata era sprecata era sprecata non ha avuto senso giocare niente eccezionale meraviglioso l'attacco ragazzi mostruoso secondo me si sono già resi loro secondo me si sono già resi cos'è la strega notturna in centrale cos'è cos'è ma cos'è si sono resi andate ad attaccare andate ad attaccare veloce il bombardino cicla sto giant cicla attenzione di là a destra attenzione buono buono brava ottima giocata ottima giocata eccezionale per entrambi il drago riesce ad andare a counterare l'orda di sgherri la pami gioca ciccio gioca ciccio gioca pitraga c'ha 2000 di elisir giant centrale giant centrale perfetto avete vinto la partita con un minuto e 20 di anticipo direi che è tutto per voi schiaffamisto 5 grande 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 meraviglioso partita della pami giant ha dei problemi di labirintite stavo andando non si sa bene dove ragazzi beh ragazzi direi che per questo video è veramente tutto due leggendarie un bel like iscrivetevi al canale e attivare sempre la campanella per essere sempre aggiornati su tutte le novità noi un bacio e ci vediamo presto ciao 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 No one will go